Sheree non vuole stare più con te Sheree non vuole stare più con te Sheree non vuole stare più con te Purtroppo, Jeff, sei solo Cosa? Pronto sfascia coppie? Single entro marzo? Si può fare Solo perché abbiamo il matrimonio gay Non significa che dobbiamo farlo per forza, no? Io votai per il no Non eri gay otto mesi fa, Russell Non voglio anni di sofferenza e stalking e terapia e possibile violenza Aiuto! Vi sparo in faccia! Lavorate per dei poveri stronzi che non hanno le palle di parlare alle loro compagne Già Io sono Jen e lei è Mel Ciao Mel Ciao Jordan, come ti aiutiamo? Vorrei rompere con la mia donna, signora Vai Jordan, forza, fagli a pezzi Mel Mel Quanto è sexy Cosa? Cosa? Non scordare la regola numero uno Non affezionarti Ti sei scopata un minore, fai tu Non è un ragazzetto, è un giovane uomo Grande Parecchio giovane Disgustoso Ha 18 anni Ah, è legale Oh, cavolo no! Sarà meglio che sia una candid camera Non lo trasmettono dagli anni 90, non so nemmeno come tu lo conosci Non parlare con me, donna bianca Ok, io non sono bianca Merda, 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 parti, parti Ecco quello che succede quando prendi tu le decisioni Siete sfogliarelliste? Sì Forse dovrei diventare gay Kristen Stewart è sexy Chi è Kristen Stewart? No, non sei gay